Sulla vicenda Ryanair si va verso una soluzione positiva. Il governo infatti toglierà la sovrattassa a settembre. Questa mattina nella sede del Ministero dell'Economia a Roma, il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, d'intesa con il suo collega della regione Sardegna, Francesco Pigliaru, ha infatti incontrato Roberto Garofoli, capo di gabinetto del Ministero, per verificare la tabella di marcia per la norma volta alla riduzione della sovrattassazione sui biglietti aerei connessa al mantenimento della connettività low cost. L'incontro ha avuto esito positivo. È stato infatti stabilito che grazie a risorse stanziate dal Ministero dell'Economia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella legge di conversione del decreto enti locali attualmente in discussione alla Camera, sarà inserito un emendamento del governo con il quale verrà eliminata la sovrattassa aeroportuale dal prossimo primo settembre. Per gli anni successivi si inserirà un'apposita norma nella proposta di legge di stabilità in preparazione per il biennio 2017-2018 e un grande risultato, hanno commentato D'Alfonso e Pigliaru, che premia il lavoro fatto con il governo e con Ryanair. Ringraziamo il Ministro Graziano Del Rio, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ed il lavoro di supporto svolto dalla conferenza dei Presidenti delle Regioni, diretta da Stefano Bonaccini. Continueremo a lavorare in Europa, hanno detto D'Alfonso e Pigliaru, affinché sia sancito il diritto comune alla mobilità low cost senza vincoli per i bilanci pubblici.